Presentato in mattinata nel corso di una conferenza stampa, il Movimento Nuova Repubblica per la Basilicata, responsabile regionale del Movimento e il consigliere regionale del gruppo misto, Alessandro Singetta. La forza politica, già presente in 18 regioni, si propone di colmare il vuoto lasciato dai precedenti movimenti di impegno civico al di fuori di specifiche collocazioni sullo scacchiere politico. Petrolio, acqua, ambiente e lavoro saranno i temi centrali che entreranno a far parte del programma che il Movimento metterà in campo per il rilancio della Basilicata. Siamo stanchi dei soliti patteggiamenti tra i partiti, c'è bisogno di programmi chiari, c'è bisogno di scelte decise e soprattutto c'è bisogno di riportare la Basilicata al centro dell'attenzione nazionale. La Basilicata, diciamo tutti, ha tante riserve, ha tante ricchezze che noi non riusciamo ad utilizzare. Abbiamo bisogno di concentrarci esclusivamente sulla situazione locale senza essere condizionati dai partiti, dai riferimenti nazionali e dalle tante cose che purtroppo hanno portato la Basilicata ad avere la cattiva situazione sia economica che sociale che noi stiamo attraversando.